Ciao a tutti e benvenuti oppure benvenute all'interno di questo video e di questa terza puntata dei video dedicati all'uso basilare di Lightroom Classic. Nei video precedenti abbiamo definito che cos'è Lightroom ed inoltre siamo andati anche ad analizzare le interfacce dei due moduli principali, libreria e modulo di sviluppo. Oggi addentriamoci all'interno del mondo del modulo libreria e cerchiamo di capire come sfruttare al meglio i vari strumenti che ci vengono messi a disposizione e di quali parleremo molto nel dettaglio a brevissimo per andare ad organizzare le nostre fotografie. Una cosa importantissima, cruciale se vogliamo sfruttare perfettamente questo software ed inoltre se vogliamo andare a rendere anche l'esperienza di editing poi delle nostre fotografie più facile, più agevole e soprattutto più rapida. In questo terzo video andiamo a vedere più approfonditamente come nel modulo libreria si possa operare per andare a organizzare le fotografie. Il primo strumento che Lightroom ci mette a disposizione e che non è un'esclusiva, una prerogativa di questo programma in quanto lo troviamo anche in tantissimi altri software di organizzazione e di foto editing sono le stelline. Quindi noi potremo andare a dare un voto, una valutazione in termini di stelle da 1 a 5 stelle massimo alle nostre fotografie per dividerle, quindi per andarle a ritrovare più facilmente con un filtro o comunque come dire ok ho 100 foto che ho scattato oggi a Tellaro quindi andiamo a vedere quelle che sono le mie preferite, quelle a cui voglio dare la priorità per l'editing. Come si può andare quindi ad applicare una valutazione alle nostre foto in termini di stelle? È veramente una cosa semplicissima. Ci basterà andare a cliccare sulla nostra fotografia tra virgolette incriminata, se facciamo doppio clic potremo addirittura andarla a vedere più grande e potremo andare anche a zoomare cliccandoci dentro quindi spostandoci al suo interno per capire se effettivamente è una foto di qualità se ha dei difetti e quindi puoi andare a cliccare qui in basso al centro sulla valutazione che noi vogliamo darle. Ancora più comodamente potremo andare a cliccare direttamente un numero sulla tastiera da 1 a 5 per dare da 1 a 5 stelle oppure su 0 per ripristinarne il voto. Ad esempio se penso che questa sia una foto a cui voglio dare 3 stelle vado a cliccare qui e le do 3 stelle. Se clicco su 0 come vedete mi viene reimpostata la valutazione a 0. Se voglio darle a questo punto un 2 stelle perché non penso che se ne meriti 3, premo direttamente il tasto 2 sulla mia tastiera e le vado a dare 2 stelline. Premendo G posso tornare alla visione griglia oppure posso scorrere molto banalmente con le frecce sinistra e destra le fotografie per andare a valutarne una ad una. Quindi posso andare a scorrele vedete in questo modo e quindi cercare di capire quali sono quelle che preferisco. Ad esempio queste comunque secondo me non sono neanche delle foto magari super belle però come vedete già qui posso andare a dare un valore a queste foto in base a quello che ritengo il miglior movimento dell'onda che poi sarebbe bello andare a sviluppare. Ad esempio trovo che questa sia una delle migliori proprio grazie a questa scia di schiuma che viene lasciata dietro e quindi ad esempio posso darle 5 stelle cliccando 5 sulla mia tastiera in modo da poter andare a ritrovare questa foto più facilmente una volta che voglio andare a editarla. Tornando un secondo indietro andiamo a analizzare il secondo strumento che ci viene messo a disposizione da Lightroom per andare a categorizzare le fotografie ossia le bandiere. Le bandiere sono proprio come le stelle quindi funzionano allo stesso identico modo però hanno meno versatilità diciamo così hanno meno opzioni perché se le stelle vanno da 1 a 5 invece le bandiere sono solamente di tre tipologie. Quindi posso andare a contrassegnare una foto come una foto scelta quindi una foto che mi piace oppure contrassegnare una foto come uno scarto. Cosa vuol dire? Se ad esempio questa foto a cui ho dato 5 stelle la voglio andare a valutare anziché come 5 stelle come foto che voglio sviluppare posso cliccare col tasto destro e andare quindi a impostare una segnalazione quindi una bandiera e metterla su segnalato. Mentre invece passiamo alla foto precedente diciamo quindi che questa foto non mi piace la voglio andare a scartare come posso indicarlo tasto destro imposta segnalazione e vado a selezionare rifiutato. In questo modo quindi quando andrò a vedere le mie due fotografie ovvero una e due come vedete quella che è stata contrassegnata come rifiutata avrà una bandierina con la x sopra e se non ci passo il mouse sopra potete vedere che è scolorita tra virgolette mentre invece quella di 5 stelle a cui ho impostato una bandiera di segnalazione positiva ha una bandierina bianca. Come posso fare quindi per andare a vedere solamente magari le foto che voglio cancellare e che ho contrassegnato come rifiutate? Basta che vado su attributo e vado a selezionare la bandierina con la x. Ci clicco sopra e come vedete ecco che qui mi è comparsa la foto che voglio andare a cancellare. Viceversa se voglio selezionare le foto che ho contrassegnato come bianche perché le ho segnalate in positivo mi basta andare a cliccare su questa e disattivare il filtro. Ora questo non funziona perché perché alla foto che ho contrassegnato come positiva ho anche applicato una valutazione di 5 stelle. Quindi mi basterà andare a selezionare l'uguale quindi pari a e inserire qui 5 stelle. E quindi ecco che con il doppio filtro sono riuscito ad andare a trovare la fotografia che voglio sviluppare. Torniamo ora indietro per andare a vedere il terzo strumento di catalogazione delle nostre fotografie. Il terzo strumento che ci viene messo a disposizione da Lightroom sono le etichette a colori ovvero un'alternativa ai primi due strumenti anche in questo caso molto valido e veramente molto versatile in quanto noi potremo andare a filtrare come vi ho già fatto vedere in uno dei video precedenti le fotografie e ad esempio andare a dare loro un colore blu piuttosto che un colore rosso un colore giallo un colore verde un viola un bianco e un grigio e quindi in questo modo andare a suddividere le fotografie in base a dei colori che noi associamo a determinate condizioni o caratteristiche delle nostre immagini ad esempio io sono andato a selezionare a dare alle mie fotografie finite sviluppate il colore blu e quindi andando nei filtri a selezionare blu avrò tutte quante le mie fotografie finite e post prodotte ad esempio come si applica quindi un colore è veramente molto semplice anche in questo caso quindi mettiamo il caso che io voglia identificare questa fotografia come finita mi basterà andare a cliccarci sopra col tasto destro cliccare su imposta etichetta colore e andare ad impostare l'etichetta blu ad esempio un altro modo per farlo è andandoci a cliccare sopra e poi andare a cliccare sull'icona blu in questo modo tornando indietro vedete che anche questa fotografia ora è blu e se vado a filtrare per le foto blu la troverò assieme alle altre anche in questo caso si può andare a lavorare tramite i tasti della nostra tastiera potrò infatti andare a cliccare su 6 per dare un'etichetta rossa 7 gialla 8 verde o nuovamente blu tramite il tasto 9 infine l'ultimo strumento che ci consente di andare a catalogare le nostre fotografie sono le cosiddette parole chiave quindi potremo andare a gestire le parole chiave da questa interfaccia sulla destra e andando a selezionare ogni foto andare a scrivere le parole chiave che ci interessano maggiormente come potrebbe essere in questo caso via lattea per ritrovare più facilmente questa fotografia nei filtri attraverso queste parole chiave le famose keywords in inglese a questo punto ora che abbiamo applicato alle nostre immagini una valutazione piuttosto che un etichetta colore piuttosto che una bandierina bianca o nera in base al fatto che magari vogliamo svilupparne una piuttosto che cancellarne un'altra andiamo adesso a vedere molto brevemente come funzionano i filtri perché noi per ora abbiamo visto gli attributi no quindi le stelle le etichette colore e le bandierine tuttavia ci sono anche altri modi per poter andare a selezionare e filtrare le foto a partire dal testo oppure attraverso i metadati quindi i dati di scatto delle nostre fotografie infatti come vedete qui all'interno abbiamo al di là di una suddivisione di anno in anno abbiamo anche una suddivisione delle foto in base alle fotocamere utilizzate per realizzarle in base anche agli obiettivi utilizzati e ovviamente poi in base anche alle etichette che abbiamo applicato in questo caso l'etichetta colore blu prima di terminare il video dato che abbiamo visto come andare a catalogare le fotografie e come andarle a rintracciare in maniera estremamente precisa all'interno di lightroom anche attraverso la fotocamera gli obiettivi andiamo ora a vedere come aggiungere le foto alle raccolte che sono uno strumento veramente veramente molto utile all'interno di lightroom cominciamo però andando a dare la definizione di che cos'è una raccolta in lightroom in sostanza una raccolta non è altro che una sorta di archivio un po' simile anche a quello che può esserci all'interno di un nostro ssd generico all'interno di un nostro hard disk generico del computer con l'unica differenza che le foto che noi andiamo a inserire all'interno di una raccolta esistono solo ed unicamente in lightroom quindi non esistono fisicamente nel nostro hard disk vengono solamente utilizzate e create all'interno di lightroom e dunque potremo andare ad esempio a inserire questa fotografia la 3302 sia in una raccolta che in un'altra ad esempio posso andarmi a creare la raccolta dei tramonti quindi clicco su crea raccolta la chiamo tramonti così e faccio crea e vedete che quindi ho inserito questa fotografia in tramonti ma allo stesso tempo posso anche creare una raccolta lunghe esposizioni e andare quindi avere la stessa identica foto in due raccolte separate e ovviamente poi tornando nel catalogo potrò andare a trasferire all'interno di queste raccolte anche altre fotografie che magari entrano sia nella categoria lunga esposizione che tramonti ad esempio anche questa quindi banalmente posso andare a prendere e la trascino banalmente in questo modo come vedete ora è solamente in lunghe esposizioni ma se la vado a prendere e la trascino anche in tramonti ecco fatto che la ho in entrambe le raccolte quindi in sostanza questo è un altro modo per andare a catalogare le fotografie tenendole ovviamente ben organizzate un altro esempio questa foto come vedete è una lunga esposizione tuttavia non è una foto scattata al tramonto quindi la posso inserire solo in lunghe esposizioni la prendo e la trascino una cosa da puntualizzare qual è è che se io comunque voglio rimuovere una foto dalla raccolta lunga esposizioni quindi faccio tasto destro e vado poi in fondo su rimuovi da raccolta la foto non mi verrà rimossa da lightroom o dal catalogo ma verrà rimossa solo ed unicamente dalla raccolta lunga esposizioni per fare un altro esempio questa fotografia qui si tratta di una foto scattata al tramonto ma non di una lunga esposizione quindi la posso prendere e trascinare solo ed unicamente in tramonti infine per terminare questo video sulla catalogazione delle foto un'altra azione che possiamo andare a compiere all'interno di lightroom e solo di lightroom quindi senza creare copie ulteriori fisiche sul nostro ssd piuttosto che sul nostro hard disk è la creazione di copie virtuali molto utili nel caso in cui volessi modificare una fotografia in più varianti ad esempio se volessi modificare sia questo file raw in bianco e nero che a colori per fare questo mi basterà cliccare sopra questa foto con il tasto destro come vedete mi si è venuta a creare una seconda foto e infatti qui in alto a sinistra dell'anteprima potete leggere una di due e due di due e dunque potrò andare a sviluppare queste due fotografie come la stessa identica foto però potrò creare una foto in bianco e nero ed una foto a colori della stessa identica immagine da tenere a mente è che le copie virtuali di lightroom sono come dei duplicati fisici all'interno del nostro hard disk solamente che il tutto accade in maniera estremamente ordinata in lightroom senza andare a raddoppiare il volume occupato della fotografia sull'hard disk quindi se la mia foto pesa 50 megabyte nel mio hard disk e vado a creare una copia virtuale come in questo caso non mi ritroverò con due foto che pesano 100 megabyte ma avrò sempre un'unica foto che pesa 50 megabyte con una sua copia virtuale in lightroom e dunque questo è sicuramente un ottimo strumento per poter variare lo sviluppo di un'unica fotografia però è sempre bene tenere a mente che non bisogna abusarne questo per evitare poi di perdere il controllo sull'organizzazione delle foto e per evitare di trovarsi 100 duplicati della stessa foto con 100 versioni diverse